Ti piace fotografare luoghi e paesaggi per rivivere le emozioni di un viaggio o di una vacanza? Proviamo allora ad utilizzare la funzione Panorama. Tocca l'icona Fotocamera nel menu principale, oppure premi il pulsante sul lato destro del tuo telefono. Benissimo! Adesso seleziona Panorama con un semplice tocco qui, nel menu Modalità scatto. Inquadra il soggetto e premi il pulsante per scattare la foto. E ora, attenzione! Mantieni l'indicatore al centro dello schermo e sposta l'obiettivo verso destra. Samsung Omni HD scatterà le altre foto automaticamente. Al termine dello shooting, il tuo panorama è completo in un'unica immagine.